l'anima la sia ogni tanto nessuno ha di continuo e per sempre giorno dopo giorno anno dopo anno possono passare senza di lei a volte nidifica un po più a lungo sole in estasi e paure dell'infanzia a volte solo nello stupore dell'essere vecchi di rado ci dà una mano in occupazioni faticose come spostare mobili portare valigie o percorrere le strade con scarpe strette quando si compilano moduli e si trita la carne di regola ha il suo giorno libero su mille nostre conversazioni partecipa a una e anche questo non necessariamente poiché preferisce il silenzio quando il corpo comincia a dolerci e dolerci smonta di turno alla chetichella è schifiltosa non le piace vederci nella folla il nostro lottare per un vantaggio qualunque e lo strepito degli affari la disgustano gioia e tristezza non sono per lei due sentimenti diversi è presente accanto a noi solo quando essi sono uniti